Noi siamo al Teatro Galli di Rimini dove si è conclusa una delle iniziative promosse qui a Rimini per la giornata della memoria e siamo con il prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione che ha voluto partecipare a questa iniziativa di oggi, il tema della memoria, quanto è importante, quanto è importante che non si dimentichi quello che è successo. Come è stato riferito è un tema importantissimo, è un tema che trova anche visibilità in questa farfalla che noi vediamo qui, che è stata declamata dalla senatrice Segre, cioè una farfalla che possa volare sempre sul filo spinato. Ecco, il ministro Lamorgese ha voluto organizzare con noi questa manifestazione qui a Rimini che è la culla anche di ciò che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale perché la memoria non vada mai smarrita ma vada sempre consolidata e fortificata qui oggi ha trovato una grande risonanza perché è giusto che sia così ed è giusto che soprattutto in questo momento particolare determinati valori siano puntellati, fortificati e consegnati alle future generazioni perché siamo convinti che oggi questa tappa fondamentale qui a Rimini può essere soltanto foriero di grandi sentimenti di solidarietà ma soprattutto di rispetto della dignità dell'uomo ciò che non è avvenuto tanti anni fa con quei gesti idenarrabili e ovviamente assolutamente mai mai giustificabili, mai. Grazie al prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione per il momento da Rimini è tutto, a voi.